Ha fatto molto discutere nella giostra di giugno la regia televisiva, una regista professionista catapultata all'ultimo momento per riprendere la giostra, c'era stato molto malcontento sia per i punti di ripresa, per la mancanza di gameplay, insomma per altri aspetti, il presidente dell'istituzione giostra, l'istituzione stessa ha lavorato in tal senso, vari incontri sono stati fatti con la stessa regista, sarà sempre la stessa regista, a curare le riprese televisive della giostra e ora sentiamo proprio il presidente dell'istituzione su come si prospetta questa nuova diretta televisiva. Questa volta si è avuto più tempo, l'altra volta io capisco anche la professionista che è stata scaraventata in piazza all'ultimo momento senza conoscere più di tanto le dinamiche della piazza, i problemi delle luci che sicuramente non è un'illuminazione donna per fare riprese televisive perché nel tempo si sono messe insieme le luci bianche, le luci calde, le luci fredde quindi anche per quanto riguarda la tecnologia le riprese non possono, quest'anno questo problema non esiste perché ora a settembre è in diurna, la regista abbiamo passato un bel po' di tempo guardando, mettendo a punto, facendo riconoscere per bene quelli che sono i tempi, la scaletta da manifestazione, dando gli indicazioni, quantomeno ci siamo dedicati un po' di tempo, io spero che la regista è comunque di fatto una professionista quindi non ho dubbi, sicuramente la differenza si dovrebbe vedere.